Ciao e bentornati, ultimissime dal casting del sequel di Avatar, dopo il video. Passeggeri, io appartengo alla testa, voi appartenete alla colla, rimanete al vostro posto. Lasciate l'attare! Ehi, atti, fermatevi! Non c'è più tempo, devi farlo adesso. Non è il momento. E quando sarà il momento? Presto. Gli armi sono scariche! Forza! Da qui, dritti fino in fondo. Prenderemo la locomotiva. E poi? La uccideremo. Non apritela. La locomotiva è eterna. La sua essenza è immortale. Sicuro che vuoi spingerti più avanti. Da 18 anni aspetto questo momento. Gertis, questo è il tuo destino. Attenzione! Snowpiercer dal 27 febbraio al cinema Sam Worthington e Zoe Saldana, rispettivamente Jake Sully e Naitiri in Avatar, non ci hanno pensato due volte e hanno siglato il contratto per i futuri sequel della saga di James Cameron. E trattandosi della serie cinematografica più redditizia al mondo, possiamo anche capirne il perché. L'ufficializzazione è arrivata da James Cameron in persona. Nonostante conoscere qualsiasi dettaglio sulla sceneggiatura, ve lo dico, è impossibile. Possiamo però anticiparvi che i due avranno dei bambini. Sì. Quanto al resto del cast, ricordiamo che il primo a essere confermato era stato Steven Lang. L'uscita di Avatar 2 è prevista per dicembre 2016. Gli altri sequel usciranno a dicembre 2017 e dicembre 2018. Per oggi è tutto, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al nostro canale e sarete sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao!